L'11 dicembre 2019, il COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ha chiesto al governo italiano di valutare l'ipotesi di escludere i colossi cinesi della tecnologia ZTE e Huawei dall'attività di fornitura di tecnologia per le reti 5G. La preoccupazione riguarda non solo l'Italia, ma tutto l'Occidente. Si tratta di informazioni ormai di dominio pubblico, ne hanno parlato l'Ansa, l'Agenzia Italiana, l'International World Group, Corecom, Formiche.net, il Sole 24 Ore, per citare solo alcune fonti. Ma prima di tutto chiariamo che cosa significa 5G. Il 5G è una tecnologia di telecomunicazione cellulare a dir poco rivoluzionaria. Infatti, grazie alle elevatissime frequenze di trasmissione e all'architettura dei sistemi, attraverso il 5G è possibile trasmettere dati sulla rete cellulare con velocità fino a 100 volte superiori rispetto al 4G. Per scaricare un film, ad esempio, col 5G basterebbero pochi secondi. Importante è anche la densità. Col 5G è possibile collegare fra loro fino a un milione di dispositivi per chilometro quadrato. Col 4G si arrivava massimo a 10.000 per chilometro quadrato. Si tratta di prestazioni impressionanti, impensabili fino a pochi anni fa, che permettono di accedere a distanza a qualunque database collegato e persino di monitorare e comandare a distanza a qualunque tipo di apparato o macchinario. Ma quali sono le conseguenze concrete per noi cittadini? Si tratta naturalmente di una materia tecnicamente molto complessa. Semplificando, si può dire che l'aspetto fondamentale del 5G sia prima di tutto la sicurezza dei dati. Per sua natura, il 5G permette una sicurezza molto maggiore o molto minore rispetto alle vecchie tecnologie. In pratica, un fornitore affidabile di tecnologia 5G costruirà una rete super sicura, mentre un fornitore non affidabile installerà dei sistemi con delle porte di accesso segrete, delle quali solo lui è a conoscenza e che potrà usare a piacimento per accedere sia ai dispositivi che alle banche dati degli utenti. Ma quali sono allora i costruttori di rete 5G da cui dipende il nostro futuro? I nomi sono noti, Ericsson e Nokia in Europa, Cisco negli Stati Uniti e Huawei ZTE in Cina. E qui veniamo al punto. I servizi segreti italiani e di gran parte dell'Occidente non considerano Huawei e ZTE affidabili. Perché? Perché come la gran parte delle grosse aziende cinesi hanno fortissimi legami col regime comunista cinese. Tradotto, se il regime cinese volesse ad esempio accedere ai dati finanziari riservati, a delle cartelle cliniche o a delle informazioni militari di una nazione in cui è installata una rete 5G di un'azienda cinese, è molto probabile che potrebbe farlo senza difficoltà. A questo punto è facile capire quali sono i pericoli del 5G per la privacy individuale e per il destino di una nazione. E altrettanto facile è capire a che genere di pericolo si esporrebbe, ad esempio la sanità italiana, se accettasse le offerte di Pechino per l'installazione negli ospedali della rete 5G cinese. Insomma, è cruciale che il 5G sia installato da aziende affidabili e alleate. Perché tutto, nelle nostre vite, ormai dipende dall'informatica. Affidarsi alla Cina per il 5G significherebbe rischiare di finire sotto il totale controllo di un regime dittatoriale e criminale, che rappresenta la più grave minaccia per il futuro dell'umanità. Alla prossima puntata! Lascia un commento e iscriviti al nostro canale! Alla prossima puntata!